Questa sera abbiamo voluto proprio gli assi pesanti per quel che riguarda i tifosi storici di entrambe le squadre milanesi Allora ve li presentiamo subito, il barone Giancarlo Capelli, buonasera, vi ritrovato Grazie, buonasera a lei E qui anche Franco Caravita, ha detto franchino, giusto? Buonasera Franco Sì, buonasera Grazie, grazie di essere qui in nostra compagnia, ovviamente il nostro tema sarà molto incentrato su quello che è il derby Prima però velocemente diamo un'occhiata a quella che è la 28esima giornata di Serie A, il weekend che ci aspetta Vediamo insieme quelle che sono le partite, si è già giocato Cagliari-Fiorentino, l'abbiamo detto Al momento il risultato è quello di 2 a 1, ma attenzione quelle che sono le partite che si giocheranno Perché sabato ci sarà alle ore 15 Sassuolo-Sampdoria Poi la Roma di Ragneri andrà a incontrare la spalla alle ore 18 La Roma di Ragneri che vuole riproporre la coppia Dzeko-Schick Punta molto Ragneri su questa coppiata fino alla fine della stagione Poi Torino-Bologna, Sinisa-Miajlovic che ritrova il Torino E poi Genoa-Juventus nella giornata di domenica Partita importante per la Juve per continuare a prepararsi in vista di quella che è la partita con l'Ajers Poi Empoli-Frosinone, Atalanta-Chiebo, Lazio-Parma E poi ci sarà il Napoli che giocherà in casa contro l'Udinese alle 18 E poi come detto il derby concluderà questa ventortesima giornata Sarà domenica sera alle 20.30 Allora direi che possiamo incominciare a entrare un po' nei meandri di quello che sarà questa partita del derby Cercando di capire come arriva a questo derby un tifoso storico milanista E come arriva a questo derby un tifoso storico interista Partiamo proprio da chi sta un punticino sotto in questo momento Ovvero l'Inter con Franco Caravita Franco vengo da te Qual è? Facciamo Vabbè si fa così No Io non lo so Prima diamo la precedenza Perché? In genere No io faccio così Facciamo prendere la rincorsa diciamo Se la padrona di casa puoi fare quello che vuoi Facciamo prendere la rincorsa così a più possibilità Bravo Per prendere la rincorsa è questo Allora chiedo in questo momento dal punto di vista dei tifosi Guardiamola prima così Come arriva l'Inter a questo match importante contro l'Inter? A pezzi Ecco Speriamo Speriamo È chiaro che le nostre problematiche in questo momento siano abbastanza evidenti C'è poco da dire Ormai un po' la disquisizione in generale dei media, dei giornali Si dice di tutto e il contrario di tutto Di fatto c'è che siamo in una situazione che non è troppo rosa Per gli eventi che ultimamente caratterizzano un po' la nostra società, la nostra squadra E il nostro ambiente Per cui è chiaro che la prospettiva è quella di uscire dal derby con il normale possibile E' chiaro che nel calcio poi basta poco, una scintilla e cambia tutto Però in questo momento entriamo in questa partita non dalla porta principale Insomma, le problematiche come dicevo prima ci sono Il caso Vanda, Icardi e quant'altro Non ci consentono poi gli infortuni, non ci consentono di pensare al meglio Ecco, si arriva poi l'eliminazione in Europa League Per come è avvenuta, è difficile da digerire Perché come hanno visto tutti Non eravamo una squadra Eravamo una compagine senza anima E quindi che dire di più La percezione della differenzia dell'Inter Del caso che ha coinvolto appunto il suo ex capitano Mauro Riccardi E anche la società Qual è? Come si pone in mezzo a questa disposizione? Soprattutto rispetto al pugno di ferro che sembra aver adottato Marotta Perché è una sensazione abbastanza tangibile Che ci sia una forte discontinuità rispetto alla gestione del passato Sembra che il nuovo corso societario con Marotta a capo Non lasci passare praticamente nulla E' successo a Nainggolan, è successo a Perisic Ora è accaduto anche a Mauro Riccardi Qual è la percezione, la posizione della curva Dalla tifoseria dell'Inter Di questa situazione che coinvolge l'ex capitano e la società? Ma guarda, innanzitutto ti dico la mia opinione Che parlando con i ragazzi in curva E' un po' il termometro di quello che noi valutiamo il caso Riteniamo che con l'avvento di Marotta Non c'è più la gestione familiare Non c'è più la gestione buonista Non c'è più Ma si dia l'avvento a una programmazione A una gestione più prammatica Delle cose che hanno senso Delle cose che si devono fare Per non lasciare spazio a figli e figliastri Al buonismo dato ad alcuni E la mancanza verso altri Si dia una prospettiva diversa Nella gestione umana Nella gestione delle risorse Quindi i tifosi in questo Vedono un radicale cambiamento Che porterà magari benefici non subito Ecco questo magari Il fatto di dover aspettare un po' Perché poi questo tipo di differenza Diciamo di trattamento della società Verso i giocatori in questo caso Porti poi dei risultati Quindi magari ci vorrà questo periodo Ma io ne sono straconvinto Ne sono straconvinto perché ritengo che La proprietà in questo momento sia molto forte A livello economico Di gestione delle risorse Di gestione del futuro Ha già fatto intravedere Notevoli prospettive A livello di Di immagazzinare Nuovi sponsor Nuove risorse Per cui parliamo di una società Che se è vero Quello che fanno intravedere Cioè La voglia di rimanere Attaccati alla squadra Di innamorarsi Perché io Vedere e piangere il figlio di Zhang In certi momenti A me Ha fatto piacere Ma non Non per il momento Per l'attaccamento Per l'attaccamento Che egli ha Nel momento E che potrà dare La filosofia Dell'attaccamento A tutta la società Per il resto Per il periodo futuro Però di base Diciamo che La maggior parte Del tifo interista Sta Verso la parte di Marotta Più che verso i Cardi Cioè questo Atteggiamento di Cardi In questo momento Del fatto che lui Comunque Si rifiuta Di partecipare Al match Della squadra Perché prolunga Questo infortunio Del ginocchio Insomma sappiamo un po' tutti Che se voleste Probabilmente no Potrebbe allenarsi E giocare Diciamo che è falso Diciamo che è falso A trovare poi tutto questo amore Che magari Cardi Aveva fatto capire Nella sua lettera In questa lettera Che aveva mandato Dicendo Mi sono sacrificato Per l'Inter Perché no Dico magari Nel momento del bisogno Però l'ex capitano Non c'è Beh si contraddice Lui stesso Nelle dichiarazioni Di amore E poi Nel momento In cui viene Viene preso Dal papà E sculacciato Fa i capricci Se sono capricci È meglio che la smetta Se non sono capricci Ci rivedremo Magari Inter contro Qualche altra squadra Dove lui giocherà Ah ecco Questo è poco Per cui Si sa che nel calcio L'amore dura poco L'amore dura Se ti comporti bene Con i tifosi Se ti comporti In maniera adeguata Con i tuoi compagni Di squadra Con la società Che ti paga Lautamente Perché non dimentichiamolo mai La società Ogni mese Ti dà L'emolumento Per cui Di che cosa parliamo Se parliamo di capricci Quali possono essere Siamo veramente Alla pazzia Se la situazione Si dovesse paradossalmente Risolvere Perché Con questo sistema Con questo concetto Non vai da nessuna parte Sei un fattore Destabilizzante Ma se la situazione Si dovesse risolvere Quale sarebbe L'accoglienza Eventuale Della tifosera Della tifosera Della interna Nei suoi confronti Dovesse mai risolvere Se si dovesse mai risolvere Magari dopo la sosta Ci sarebbe comunque Una mano tesa Nel tentativo Di comprendere La sua situazione Oppure Un atteggiamento Di chiusura Verso chi Secondo Quella che è L'opinione diffusa Che ci raccontavi Pocanzi Comunque Non si è comportato Correttamente Verso la maglia In questo caso Perché poi dopo Il rapporto Non è mai stato Nonostante fosse il capitano Il bomber dell'Inter Non è mai stato Sui livelli Di chi lo aveva preceduto Ricordiamo anche Le polemiche Sosseguita Ai tempi Del libro Che aveva pubblicato E quant'altro Quale sarebbe L'atteggiamento Potenziale Della curva Qualora dovessero Risolvere Questa situazione Ma guarda L'atteggiamento Della curva È sempre stato Trascinare l'Inter Non i Cardi Finché i Cardi Gioca nell'Inter Noi trascineremo l'Inter Non il soggetto Non l'individuo In sé E basta Quindi già Nel momento in cui Questo ragazzo A vent'anni Scrisse le sue memorie Beato lui Che non è passato Dall'altra parte Perché Scrivere Scrivere le memorie A vent'anni È quantomeno Sciocco Diciamo Quindi La curva Ha avuto L'atteggiamento Che secondo me È stato Qualificante Per come Siamo noi Ci siamo comportati bene Abbiamo trascinato L'Inter Non abbiamo mai fatto Il tifo per lui Però lo abbiamo accettato Penso che Se si risolve Questa situazione L'atteggiamento Potrebbe essere uguale Questo è un aspetto Di fondamentale importanza Perché lascia comunque La possibilità Alla società Diciamo Di non avere anche Questo problema in più A livello gestionale Per cui A supporto Della tesi Che descrivevi poco fa Della totale fiducia Nei confronti Del lavoro di Marotta La tifoseria dell'Inter Non prende una posizione netta Contro i cardi Lasciando quindi La possibilità Alla società Di risolvere Anche eventualmente La situazione Sicuramente Questo è un aspetto Secondo me A mio modo di vedere Molto positivo Sì sicuramente Anche perché Noi Non siamo Mai voluti Entrare Nelle dinamiche Societarie E nella dinamica Per la quale Poi ha portato La sua La sua esclusione E l'aver portato L'avergli portato Via la fascia Quindi La curva È rimasta È rimasta Comunque Momentaneamente In disparte Se dovessimo Poi Cambiare atteggiamento Perché dovremmo sapere Qualcos'altro E allora Si deciderebbe Di prendere Una posizione Magari Più Più Concreta O contro di lui O a favore Cioè Questo non lo sappiamo Perché in questo momento Non è proprio chiara Diciamo Il motivo per cui Gli è stata tolta La fascia E perché No Però dall'esterno Si evince che Un gesto del genere Molto forte Molto forte Abbia il compiacimento Di tutta la società E di tutta la squadra Per cui Si può pensare solo Che ci sia un colpevole E qualcosa di forte Sia successo Al di là Delle esternazioni Che poi ha fatto La moglie In televisione Che già Quell'anno un po' Ha aumentato Che sono già Di per sé Un fattore Destabilizzante Perché non ricordiamo Che lei aveva detto Che piuttosto Che all'aumento Del rinnovo Del contratto Avrebbe preferito Avere compagni Che aiutassero Uno con un altro giocatore Che aiutasse di più Lo stesso Icardi A segnare Sì Oppure Fastidiosamente E con un'eloquenza Abbastanza caratterizzante Del personaggio Disse Mio marito Con uno schiocco di dita Licenzia E fa assumere chi vuole Cioè Questo infatti Anche a me Queste cose Lasciano il tempo Che trovano Se queste posizioni Penso che Non gli sia mai Stato chiesto Questa internazione Se se la Se la ritrae Se se la rimangia Certo Oppure la conferma Perché comunque Non c'è stata Nessuna posizione Quindi L'ha confermata Quindi Vediamo Qual è Qual è la posizione Di lei Che presumibilmente Comanda a casa Come dice Porta i pantaloni C'è anche chiaramente Questa Risvolto Della situazione Pensando appunto Che Perché non si capisce bene Nemmeno Quanto I card Influenzi Ciò che viene detto Dalla moglie Nei vari panorami pubblici Sui social network È un po' una situazione In questo senso Io penso zero Sì Io penso zero Influenza zero Zero Eh non lo so Non lo so Però in questo caso Effettivamente poi Per quel che riguarda La gestione Del ragazzo Perché poi c'è stato un periodo Adesso sentiremo tra poco Con le parole di Marotta Perché ha parlato Sia del derby Che della situazione Icardi C'era stato un periodo Di Marotta Che parlava Dicendo noi Comunque Con il ragazzo Parliamo Diceva Quando il ragazzo E qua Noi parliamo Come dire Cerchiamo di distinguere Quello che è La parte mediatica Della moglie Rispetto al contratto E per le esternazioni E quelle che veramente Sono le volontà Del ragazzo Perché sicuramente C'è stata una sofferenza In Icardi Nel momento in cui Si è visto togliere La fascia da capitano Questo possiamo Esserne certi Ma sì È un po' come Essere in una famiglia numerosa E il padre deve prendere Dei provvedimenti Certo che Continua A farti entrare in casa Ma poi tocca Anche Agli attori Decidere la leadership Decidere cosa fare Dalla propria vita Sì E noi Purtroppo Come tifosi Siamo quelli che pagano Di più questa situazione Certo Perché loro Comunque È brutto Parlare di soldi Ma purtroppo Loro A fine mese Lautamente pagati Sono tranquilli Come sul divano Noi Dobbiamo alzarci Andarci a comprare il biglietto Pagargli lo stipendio E Incazzarci Non poco Per questa situazione Per cui Siamo sempre noi tifosi Poi a pagare Che Tra l'altro Io mi ritengo da tifoso Padrone del calcio Non che siano gli altri Padroni del calcio Anche perché senza i tifosi Il calcio non esisterà E su questo Ci può essere qualunque giocatore Che senza il tifoso Il calcio non si fa È un luogo comune Ma è la verità più assoluta Facciamo così Sentiamo intanto Quelle che sono state Le parole di Marotta Proprio sui cardi E sul derby Sentiamole insieme Novità non ce ne sono Quindi questo è fatto da registrare Sappiamo tutto ormai Di questo caso Non devo aggiungere nient'altro E quindi io sono sempre Vorrei dire Ottimista Ecco perché Penso sempre Che il buon senso Prevalga E di conseguenza Si possa anche In questo caso Arrivare a essere soddisfatti Più avanti Ma innanzitutto Registriamo questa amarezza Questa sconfitta Che non porta All'alibi Della mancanza di giocatori Anche se in realtà Ne mancavano nove E non è poco Per una rosa Di 23 elementi Però bisogna registrare Questa sconfitta E questo ci fa male Ci fa male Ma come in tutte le cose Bisogna trarre insegnamento L'insegnamento è quello Di guardare al futuro Il futuro si chiama Mila Che avviene tra pochi giorni E quindi bisogna Ancora di più Tirare fuori l'orgoglio Quel senso di appartenenza Che sono elementi indispensabili Per poter raggiungere Un obiettivo importante Io considero L'Inter ancora In una fase Di crescita societaria Sicuramente L'obiettivo Di questa stagione Non può che essere Il quarto posto Assolutamente Non è facile raggiungerlo Perché ci sono Dei competitor di livello Però siamo assolutamente In grado di poterlo fare E quindi domenica Sarà una partita importante Non determinante Non decisiva Ma come dicevo Prima è una partita Che ci deve dare La possibilità Di dimostrare Quelle qualità Che abbiamo Nel nostro interno L'allenatore Non c'entra niente Nel senso che Le difficoltà Nascono oggettivamente Indipendentemente Dal nome dell'allenatore Paletti Paletti sta conducendo La squadra In migliori modi Per cui Assolutamente Direi che con lui Dobbiamo arrivare A questo Traguardo Queste le parole Di Marotta Giancarlo Chiedo a te In una situazione Simile A quella che Sta succedendo In casa Inter Per Riccardi Voi Come Curva Milan Avereste reagito Nella stessa maniera In cui ci stava Raccontando Franco Secondo te Quale sarebbe stato Ritieni giusto Il modo in cui Stanno vivendo I tifosi dell'Inter Questa situazione Li capisco Perché noi Abbiamo vissuto Certe situazioni Analope Il tifoso Come dico Non è che ha sempre ragione Ma è quello Che appunto Ha Quella voce Molto forte Nel calcio E diciamo Che i tifosi Hanno tutte le ragioni Per contestare Questa decisione Di questi giocatori Perché fanno i capricci Perché sono capricci veri Poi I Cardi In particolare Io lo ritengo Un campione Però Da come Giocatore Ma come uomo Lo sta dimostrando Che verso la sua squadra Verso i suoi tifosi Non si sta dimostrando Veramente corretto Ma io mi chiedo Che cosa ci si sarebbe Aspettato dai Cardi Cioè nel senso Ci si sarebbe aspettato Un dire Ok Mi dissocio Da quelle che sono state Le dichiarazioni Di mia moglie Oppure andare direttamente Dai compagni Chiedere scusa Per questa cosa Oppure dire Va bene Non ho la faccia da capitano Me la riconquisterò Sul campo Cioè cosa ci si aspetta Da un capitano Chiedo a giocarlo Poi chiedo Di mente anche a te Ma guarda Io ti dirò Per me il capitano È un qualcosa in più Rispetto agli altri Deve essere un uomo Deve avere una grande responsabilità Lui Io adesso Non voglio Creare polemica Tra lui Perché poi io Sono un'altra squadra Non mi piace Ma giurico Da tifoso Da avversario Sì 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 Devo dire personalmente Che io mi sarei aspettato Che lui Con la moglie Non gli facesse fare Certe dichiarazioni O prendesse una certa posizione Perché lui Deve ringraziare Solo i tifosi Perché lui Dove è arrivato Sì a lui Alla sua bravola Ma anche alla squadra I tifosi Gli sono sempre stati vicini Perché l'hanno sempre Portato in alto L'hanno sempre Acclamato Nei momenti difficili Come ti ho detto Anche io Lo ritengo Forse uno dei più Fori giocatori Ma ultimamente Sta veramente dimostrando Questi capricci Non vanno bene Da tifoso milanista Spero che stia fuori Anche domenica Ma io credo che Per quel che riguarda Domenica Non ci saranno dubbi Ma spero Spero con tutto il cuore Perché insomma Sono certezze Ormai Non ci sono neanche Più dubbi C'è invece Una novità Importante Presumo Per la curva dell'Inter Abbiamo modo Chiaramente Di tastare con mano Il tutto Perché è arrivata La svolta Da parte del Viminale Ci sarà la coreografia Da parte Della curva nord Dell'Inter Che aveva annunciato La sua decisione Di non farla Dopo il no Ad un ricordo Dell'ultras Belardinelli Scomparso in seguito Ai Tafferulli Pre-Inter-Napoli Però si è mosso Il ministro dell'Interno E è arrivata anche La svolta Da parte del Viminale Che ha dato l'ok Almeno pare Per avere Questa coreografia Prima della partita Sicuramente È importante Anche dal punto di vista Del ricordo Di una persona Che non c'è più Ma comunque Al di là di tutto Anche per lo spettacolo Offerto Dagli spalti Che è sempre molto importante Caratterizza un po' La stracittadina milanese Franco No no Assolutamente Ma io L'abbiamo vissuto in diretta Perché Eravamo insieme Un gruppo della Curva E ci era giunta La prima notizia Che I rappresentanti Del GOS Avevano Avevano negato Inizialmente La coreografia E ci aveva molto Amareggiato Questa decisione Perché Si riteneva Che Era Era assolutamente Una cosa Veramente assurda E inqualificabile Da parte Di persone Che Devono decidere Certamente Sulla sicurezza E quando si parla Di sicurezza Il primo pensiero È andato È andato Al fatto Che Questo striscione Non ricorda Nient'altro Che questo ragazzo Che purtroppo È morto Per cause Come sappiamo Cause dinamiche Incredibili E uno striscione Non avrebbe fatto Sicuramente male a nessuno Non avrebbe creato Nessun tipo Di Di alterazioni Durante Né prima Né dopo la partita Per cui Era ancora Più assurda Questa decisione Benvenga E pubblicamente Ringrazio Tutti coloro Che si sono adoperati Affinché questo Non avvenisse E E In effetti Sono ritornati Indietro Sulla decisione Presa Quindi La coreografia Per Dede Si potrà fare Ringrazio tutti Veramente Di cuore Perché È una cosa Era una cosa Inaccettabile Inammissibile E avrebbe creato Sicuramente Tensioni Ulteriori Che non servono a nessuno Soprattutto 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 Brava Soprattutto In questo momento Per cui Un grazie Un grazie 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 Di cuore Da parte Di tutta la curva Perfetto Benissimo Anch'io Come Anch'io Come tifoso Del Milan E tengo Che sia una cosa Giusta Perché giustamente Memoria Di un ragazzo Che è scomparso Un ragazzo Che faceva parte Del nostro mondo Di qualunque colore Sia Non c'è bandiera Qua Si rispettano tutti Purtroppo Questa situazione Qua Noi Ci siamo rimasti Anche noi L'abbiamo saputo Anche noi Io l'ho saputo Da lui Perché Anche noi Oggi Le varie televisioni Le varie stampa Ci aveva informato Che non sarebbe Non avrebbero dato Quella possibilità Di esporre Questa coreografia È una cosa positiva Anch'io Sono contento Che ci sia Questa coreografia In memoria Di questo ragazzo Che è venuto a mancare Che faceva parte Del nostro mondo Certo Assolutamente Sì È giusto così E siamo contenti Che si sia raggiunto Questa decisione Intanto noi Ci concentreremo Ancora Sul derby Perché vogliamo Anche fare Un po' Un paragone Tra quelle che Sono le caratteristiche Insomma Quello che può essere Lo scontro Fra Piontek E Lautaro Martinez Ma non solo Poi in un piccolo Sceno storico Anche di quelli Che sono i derby Tra pochissimo Milan-Inter Lo guardiamo Eccolo qui Il Milan al terzo posto Ha scavalcato l'Inter L'Inter si trova a 50 Questa partita Vale molto Sicuramente non vale Tutta una stagione Perché non Ci sono ancora tante partite Da giocare Però sarà davvero importante Perché questi tre punti Saranno fondamentali Per chi li riuscirà Ad agguantare O se sarà uno a testa Potrebbe essere anche così Lo vedremo Intanto Due protagonisti Due saranno i protagonisti Di questo derby Sicuramente Piontek E Lautaro Martinez Allora andiamo a vedere Insieme Una nostra grafica Che ci descrive un po' Quello che è un confronto Tra questi due giocatori Gianluigi Facciamo un po' Di analisi Tra questi due Comunque rispettivi Campioni Di entrambe le squadre Sì diciamo che uno Sta vivendo forse La sua stagione Di grazia Della definitiva Esplosione Dal punto di vista Anche numerico Ovvero Piontek Che è il capo canoniere Del Milan Pur essendo arrivato Soltanto a gennaio Con nove presenze E otto gol Diciamo nella sua fase Di maturazione Totale L'altro invece Ha lo stesso numero di gol Ma ha un numero di presenze Molto più ampio Anche se il minutaggio Chiaramente Non racconta La verità delle cose Perché spesso e volentieri È entrato nella fase finale Delle partite Quando c'era ancora Mauro Riccardi A disposizione Quello che racconta Più che altro La realtà È forse la statistica Legata ai minuti Che occorrono Da un lato a Piontek Dall'altro a Lautaro Martinez Per andare a rete Pensate che Piontek Segna praticamente in media Un gol In meno di una partita Ogni 81 minuti Lautaro Martinez Ci mette All'incirca Il doppio del tempo Qualcosa in più Per andare a rete È più uomo assist Perché una volta Ha anche servito Un assist importante C'è l'età Dalla sua parte Inevitabilmente È ovviamente Un progetto Che l'Inter Aveva intenzione Di costruire Su di lui Ad ampia gittata Magari per un post Icardi Oppure per affiancarlo All'ex capitano Dell'Inter Che invece Si è trovato costretto A dover portare Sulle sue spalle Interamente Il peso Dell'attacco Di una squadra Come l'Inter Sicuramente Saranno loro I protagonisti Del derby Assolutamente sì Anche per quel Che riguarda l'Inter L'attaccante Principe In questo momento Sicuramente Lautaro Martinez Visto come abbiamo Parlato della senza Di Cardi Per quel che riguarda Il Milan Invece non c'è dubbio Su quello che siano Le doti di Piontek Piontek lo ricordiamo Si trova a 19 reti Nel stesso Numero di reti Di Cristiano Ronaldo Quindi insomma Piontek Giancarlo sta facendo Davvero vedere Che le stesse qualità Che aveva dimostrato Le sta portando davanti Anche in una piazza grande Come quella Di San Siro Davanti a delle responsabilità Maggiori È convinto che vuole Raggiungere la Champions Da quando è arrivato Non solo Ha consolidato il quarto posto Ma il Milan È riuscito anche Addirittura A salire al terzo E quindi insomma Piontek è molto determinato Molto freddo sotto porta Fa un gol Ogni pochi minuti Davvero È stato Un acquisto Di questo mercato Di gennaio Fondamentale Ma si guarda Il Milan Veramente ha fatto Due grandi acquisti E lo ricordiamo E lo ricordiamo Sì Devo dire che Questo ragazzo qua Lo sta dimostrando Ha una grande volontà Si vede proprio Che entra in campo Sempre con la mentalità Che vuole vincere Vuole segnare il gol Freddo Mi hanno detto Sì molto freddo Sottoporta Ha detto anche Dove ha giocato Nelle altre squadre Anche gli stessi tifosi Dove lui ha giocato Non si è preparato Molto bene Di queste ragazze Speriamo Da tifoso Cosa posso Non posso essere Solo contento Spero appunto Che Domenica Se possa segnare il suo gol nel derby È il primo derby Sì appunto Nel derby Perché insomma Il derby come ho detto È sempre una partita particolare È una partita a sé E poi C'è sempre quella rivalità Quella tensione Che È una partita Tutta a sé Io credo che poi Anche il fatto di essere Così vicini Solamente a un punto di distanza Aumenta ancora di più La tensione L'importante è non perdere L'importante è non perdere L'ho già detto prima È franco Questo fatto di essere Così vicini Inter e Milan La caccia del terzo posto Aumenta ancora di più La tensione E a livello di pathos Sicuramente Perché Arrivi Per Per ottenere risultato E se non lo tieni Passi una settimana Di M Come si può dire Forse anche di più Quando perdi il derby E quindi È chiaro che Poi quando sei sugli spalti La tensione Ti occlude Tutto l'apparato digerente Quindi È dura È dura È dura Quindi Democraticamente Si spera Sempre nel pari Perché il pari È quello che Stabilizza Non lo so Perché secondo me Il barone Non spera nel pari No mi meraviglio Mi meraviglio Che lui dica questo Perché Sono più io sul pari No è più lui sul pari Sono io più sul pari Ma siete scaramanti Centrambi Ognuno di due Spera di vincere Quale pari No io poi Allora Poi io mi sbilancio Dico Vinciamo due a zero Che si fa Però Però Ragazzi Noi viviamo In una situazione È chiaro che uno È chiaro che uno Vuol vincere No però sai Noi siamo avanti Di un punto Anche il pari Ci possiamo accontentare E se un po' Un po' la volta Piano 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 Arrivi Io dico che sempre È come la formiga Io dico vinciamo due a zero Però per la situazione Che si è creata All'interno Del contesto Inter A 360 gradi Dici È chiaro che Per le ultime uscite Per come sta andando La storia È tutto il settimana Che un pari Potrebbe calmare gli animi Piuttosto che una sconfitta Piuttosto che una sconfitta Che ti deprime Ulteriormente Anche perché Giustamente Adesso L'Inter è uscita Dall'Europa League Ma a sua volta Aveva fatto La discesa Dalla Champions League Perché lo ricordiamo Che c'è una doppia discesa In questo senso Beh infatti Quella storia Tutta questa situazione Nasce Nasce dalla partita Col Tottenham Perché dopo Il Tottenham Si sono cominciate A intravedere Quelle Si è intravista La The Black Totale Cioè Siamo Abbiamo cominciato A crollare E Quando poi L'Inter Attua questa dinamica Di crollo E un rotolare Sempre verso Verso il basso Quindi Siamo stati attenti Vediamo che lo tricotino È come la muzzola Totale Proprio Vabbè Ci sta Giusta la rivalità È normale che sia così Però è chiaro che In questo momento L'Inter è come un po' Se camminasse Sui carboni ardenti E rischia di scottarsi E si è già scottata Diverse volte Perché ad oggi Dovesse concludersi In questo modo Il campionato Sarebbero entrambe Le due milanesi In Champions League Per il prossimo anno Andiamo adesso Allora a vedere Insieme a Gianluigi Quelle che potrebbero essere Le possibili formazioni Le probabili formazioni Di entrambi i tecnici Come potrebbe schierare Gattuso Il Milan È pressoché Stabilito Perché ormai Rino Gattuso Sembra avere un po' Una formazione Bella chiara E anche l'Inter Insomma di Luciano Spalletti Le vediamo insieme Gianluigi Sì vediamo insieme Le probabili formazioni Con le scelte Che dovrebbero riguardare Le due compagini Partendo dal Milan Che dovrebbe schierarsi Secondo le linee Di un 4-3-3 Diventato ormai paradigmatico In questa fase Del campionato per Gattuso Con Donna Rumma Tra i pali E una difesa Spesso criticata Nella prima fase Del campionato Che invece sta mostrando Tutta la sua qualità Con Calabria Musacchio Romagnoli E Rodriguez E poi il centrocampo Fisico Con Chelsi E Bacaioco Con l'ausilio di Paquetà Che sicuramente è stato Un acquisto molto importante Per il Milan da gennaio Ovviamente Pionteca A guidare la linea avanzata Insieme a Suso E Cialanoglu Per quanto riguarda l'Inter Le scelte Sono un po' più obbligate Specie nella fase avanzata Perché chiaramente Non ci sono grosse prospettive Di poter fare delle modifiche Vi siete tante indisponibilità Ci sarà Andanovic Tra i pali Dovrebbe essere confermata La coppia di centrali De Frey-Skriniar Nonostante la brutta prestazione Dell'olandese Della giornata di ieri In Europa League D'Ambrosio è favorito Rispetto a Cedric Per partire titolare Sulla destra Ci sarà Asamo Anche lì favorito Sulla corsia mancina Brozovic dovrebbe rientrare Dal primo minuto Nonostante l'infortunio Che lo ha privato Dell'ultima gara Di Europa League Con Vessino E poi Gio Mario Per agire Alle spalle Di Lautaro Martinez Insieme a Politano E Peris Ci dovrebbe esserci Soltanto panchina Per Keita Balde Che ha speso Sicuramente Delle energie importanti A rientro Nella gara di Europa League Giocando tutta la partita Queste sono le scelte Probabili Dei due tecnici Perfetto Queste potrebbero essere Le scelte poi Che vedremo in campo Questo derby Domenica sera Chiaramente Un match Lo dicevamo Che per quel che riguarda La zona della classifica È molto importante E riguarda anche Per continuare Diciamo la cavalcata Delle vittorie Per quello che riguarda Il Milan Per trovare una luce Qualcosa anche A cui aggrapparsi Per l'Inter Perché in questo momento Franco L'Inter All'Inter È rimasto solamente Chiaramente il campionato E il raggiungimento Del posto in Champions League Beh allora Sì 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 Noi abbiamo qualcosa in più Milan Un punto No vabbè Un punto Al punto Poi noi siamo in lotta Anche per la Coppa Italia La Coppa Italia Al Milan c'è anche la Coppa Italia Bisogna dire la verità È sicuramente Una cosa diversa Dall'Europa League Dalla Champions League Però alzare una Coppa Al Milan potrebbe ancora farlo Potrebbe ancora farlo sì Quindi dai Diciamolo 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 Però detto questo Per quel che riguarda L'animo dell'Inter Insomma Un tifoso dell'Inter Ci crede comunque Di poter arrivare In Champions League Anche senza L'eventuale presenza Di Cardi Ma sicuramente Cioè Se non ci fossero Tutte queste alchimie Negative Che si sono create Noi eravamo sicuri Perché in un primo momento Dopo l'assenza di Cardi L'Inter Sembrava aver reagito Addirittura No? In un modo Ma infatti Quello Quello che Su cui rimani basito Non riesce A comprendere le cose Che Nel momento in cui Si era Svolto Un lavoro Più che degno Più che decente Si era Costruito Un certo Come dire Bottino Di punti Fatti bene Giocando bene Tutti uniti E via discorrendo Si è dilapidato tutto Esatto Un certo momento Si è persa la rotta Quindi Cosa vuol dire Chi ha ragione Il momento Qual è la ragione Il momento Prima Della De Blago O Adesso che bisogna recuperare Siamo Siamo quelli di prima O quelli di adesso Io non ci sto capendo Più Più nulla Se La compagine Riuscisse A ritrovare Se stessa Almeno Quanto meno A livello mentale Io penso che Il terzo Quarto posto Sia Oggettivamente Raggiungibile Non dico facilmente Ma Insomma Senza dover Avere troppi patemi D'animo Esatto Il Lecce Il Milan Punta al secondo Beh Vabbè Riuscire a raggiungere Il secondo Sarebbe una grande vittoria No Merito per il mister Per il mister E anche per i giocatori Perché Da come eravamo partiti C'era stato anche Quasi quasi Si parlava perfino già Di sostituire Mi ricordo Prima di dicembre Di sostituire anche L'allenatore Sì sì Beh L'allenatore Appena i risultati Non arriva Sempre sulla graticola Vero a capire anche Che cosa Dovesse mai perdere Il derby L'Inter E poi Ricordiamo che c'è la pausa Per le nazionali Se insomma Cosa potrebbe Chissà succedere A Spalletti Marotta ha detto Spalletti va bene Tranquillo Non c'è problema Andremo avanti con lui Ma non si sa mai Noi ci troviamo Siamo quasi giunti alla fine Vorrei dire qualcosa Sì sì Scalcio Un riconoscimento Alla carriera Che verrà tributato All'ex estremo difensore Del Palermo Attualmente al Chievo Quindi complimenti A Stefano Sorrentino Per quanto riguarda Invece il discorso Legato alle prime pagine Abbiamo al momento Le pagine interne Del giornale Che fanno un riferimento Esplicito alla situazione Di una delle due milanesi Ovvero All'Inter È un derby Antifallimento Rivoluzione cinese Nel nome di Conte Che sembra essere Come rivadiamo da tempo Il candidato principale Per un'eventuale sostituzione Di Spalletti Al termine della stagione A Spalletti Adesso non basterà La Champions Per salvare la panchina Sembra sostanzialmente Una situazione Una scelta già presa Dalla società nera azzurra Che aspetta solo Di poter diventare effettiva Al termine del campionato in corso Quale che sia l'esito Grazie Gianluigi Longari Grazie a voi Grazie anche a Franco Caravita Grazie a te Grazie a voi Un saluto a tutti Grazie a Gianfranco Capelli Grazie a voi Buonasera E Forza Mina Esatto Allora grazie a voi Per essere stati qui Forza Mina Forza Inter Vedremo quello che succederà In questo derby Di domenica sera Noi ci salutiamo Però vi lasciamo Con il TG Quindi mi raccomando Come sempre Rivenete su Sport Italia Grazie a tutti